I will give you despair and death Beh, prima di partire volevo farvi vedere un attimo una cosa che ho modificato in galleria che ho notato che la canzone, ecco, la canzone è quella dell'inizio di Evil Trigger che non mi dispiace affatto come canzone non si sentiva più perché praticamente se non ho capito male è legata a nero allora adesso io l'ho messa a tutti i personaggi così quando c'è il combattimento, almeno c'è questa canzone ecco, quindi tutto qua, questa precisazione poi ho visto che comunque hanno messo tante altre del primo del Mercari addirittura uno del Mercari 2, del Mercari 3, il 4 ah, carina sta cosa carina, vabbè comunque sia poi vabbè, vi ringrazio comunque dei commenti che mi lasciate dei consigli ecco, non abbiate paura di commentare no, perché è successo che magari uno commenta e poi vorrei rispondergli e il commento non lo trovo più perché magari, boh, se lo cancellano non lo so, boh, io di certo commenti non mi metto a cancellarli tranne quando è successo purtroppo infatti volevo chiedervi di non farlo di fare spoiler finché la serie non è finita abbiate almeno il rispetto per chi segue la serie di evitare spoiler se dovete fare qualche spoiler fate la solita dicitura spoiler con un po' di spazi così poi YouTube nasconde diciamo, cioè per leggere lo spoiler devi comunque cliccare invece è capitato con un utente che ha fatto uno spoiler diciamo che meno male me ne sono accorto subito non è una spoiler sul finale però, insomma è comunque un'informazione in più importante perché adesso io so una cosa che ovviamente non si sa ancora e questo, vabbè, mi dispiace che sia stata questa cosa meno male sono contento però che credo nessuno l'abbia visto perché è durato un minuto il suo commento perciò finché la serie non è finita per favore evitate spoiler di alcun di spoiler di tutti i generi ecco che se no provvederò io a eliminarli ecco detto questo continuiamo ci sono i 15 bivio nero il tempo stringe quando le forze cominciano ad abbandonarlo vi fa perdere tutte le sue energie e rimaste per proseguire nella discesa ah, nico ok Ok, enough with the suspense. What do you need? Poi però penso che rimetterò l'originale, visto che a me dipende dal gioco, però i costumi, insomma, preferisco sempre ecco l'originale. Ecco, vabbè. Allora, allora, abbiamo 32.000 gemme rosse, cosa possiamo fare? Qua il set è completo, praticamente abbiamo raw eye, sweet surrender, allora sweet surrender lo depositiamo. Ragtime era quello del tempo e non è che mi piaceva troppo. Niente, devo... Aspetta un attimo, posso prenderne qualcuno? Sì che potrei prenderne qualcuno, effettivamente. Però mi dà un po' fastidio spendere soldi per i Devil Break. Allora, facciamo così, va. Ecco, pulizia. Allora, al primo posto, quello più debole, quelli che si rompe, chi se ne frega. Poi, mettiamo la frusta e praticamente non ne abbiamo altri di speciali. Cioè, a parte, mettiamo magari quello di Megaman. Abbiamo un sacco di Gerbera, cioè, come ho fatto ad accumularne così tanto, non lo so. Ma sì, guarda, mettiamone 5. Lasciamo due slot liberi per quelli che magari troviamo in giro, eh, così li riempiamo. Poi, per ora no, non voglio comprare Devil Breaker. Qua cosa possiamo fare? Cioè, cosa possiamo comprare? Tecniche. Tecniche. Il fatto è che, appunto, come ho già detto, quando ho imparato due o tre tecniche, poi non è che mi viene da usarne altre. Potrei anche non prendere nulla. Effettivamente, qui ne abbiamo preso tutto. Quasi tutto. Quasi tutto. Ecco, io non schivo, praticamente. Anche. Però magari, rapido colpaio e cogliere di sorpresa il nemico, naturalizzando nello stesso tempo gli attacchi. RB avanti, Y in aria. Bah, magari questo potrei anche prenderlo, dai. Ok, basta. Ecco, va bene. Ok. Possiamo partire. Ok. Hmm, si confondiamo un po' con l'ambiente. Lavoro meglio da solo, vabbè. Qua non c'è niente, a parte il furgone. Oggi non possiamo anche rientrare nel furgone. Vabbè, no, andiamo avanti. Noi, sì, ci confondiamo con sto posto, con questo costume. Allora. Dove vado? La strada si divide, ma dove? Non qui. Va bene, va. Ecco, vedi? Ecco, ragtime. Ma sì, magari lo raccogliamo e lo distruggiamo subito. Cosa del genere, vediamo. Eh, caos, vado troppo avanti. Opla. A parte che con il doppio salto lievito. Eh. Può andare anche giù. Va, un altro. Un altro abbiamo trovato. Eh, un boh. Labirinto, forse. No. Vabbè, tanto volevo andare anche giù. C'è qualche scontro. Sperchiamoci la vita. Ah, sì, guardali. Allora, la mossa che ho preso era... Esatto, questa. Eh, magari potrebbe rivelarsi utile. Va. Va. Ok. Oh, questa musica già mi piace di più. Fermati. Oh, l'ho buttato giù. Aspetta, no? Ok, ci sono gli spuntoni lì. Ah, ecco, è morto. Ci sono altri nemici? Forse è perché è andato giù? Ma no, era morto. Vuoi vedere? Ah, sì, altri. Vai, ammazziamoli. No. No. Oddio. Ah, me l'ha rotto. Ah, beh, pazienza. Vai, adesso. No. Oh, madonna. Ok. No. Ah, ma non è che sono... Non è che per caso sono infiniti. Mi è sto dubbio. Ok. Posto? Sì. Di qua dove si va? Ah, ecco, c'è un altro ragtime. È il pasta breaker. Prendiamo il pasta breaker. Ma qua non... Guarda, c'è qualche roba. Aspetta, no? Devo cadere. Ok. Qua senza doppio salto è... Ok. Oddio. Qua vai in un'altra area, però... Eh, io voglio vedere anche in alto. Eh, scusate. Eh, scusate. Ah, pensavo che si era bloccato. Aspetta un attimo. Ok. Dobbiamo tornare su. Se io torno di qua... Aspetta, qua sono veloci. Eh, cavolo. Aspetta. Eh, non tolgono tanto. Normale. Sì, poi lo so, voi mi avete consigliato e apprezzo, eh. Che mi avete detto che... Di caricare la spada, ma... Non mi viene più... Oh, no, non sono caduto, però. Attenzione. Mamma mia, sono rapidissime. Aspetta. Eh, cavolo. Ok, può passare. Va qua. Così, va che c'è un bel alberello. Dai. Ok. Sì, perché se lo distruggiamo... Mi sa che prendiamo le sfere massime. Se invece dopo tutto il tempo si indurisce... Basta. Ah, ma forse la via era solo quella, eh. Che è qua. Ah, ma avevo visto. Eh, guarda là. L'avevo visto. Ma scusa, ma da dove ci arrivo qui? Forse devo saltare, sparare, prendere. Una cosa del genere. Oddio. Eh, eh, insomma. Aia, aia, aia. Sono finito. Eh. Un po', un po' difficile. Ah, ah, da là. Devo partire. Ah, ok. Allora aspettate. Facciamo il giro. Allora. Qua, quanta vacca. No, mi ha preso. Praticamente, ecco, praticamente... Mi sta danneggiando più sti cosi... Che i nemici. Allora. Via. No. Eh, perché... Boh, così... Ma... Mmm... Dunque, eh, sì, è un po' che provo. Infatti sto per morire, praticamente. Però... Lì, lì, lì ho provato a vedere, ma alla fine non ci si arriva. Non ci si arriva da qua. Infatti poco, ma... No. Non ci si arriva. Perché l'ideale è andare qua. Lì ci sono i cosini... Da prendere. Ma... No. No. Poi non ho più il pasta breaker perché l'ho distrutto per... Prendere un ragtime. Perché questi cosi ho visto... Usando l'abilità del tempo. Si potevano bloccare temporaneamente. Pegato che però... Mi si è rotto. Allora. Eh, no, ma... Quavo... Oh, devo avere altre abilità particolari. Ma non penso. Cioè, non credo. Perché io ho provato a saltare. Provo a saltare, a mirare, ma... Non miri neanche questo, Fide. È vicino. Possibile. Dai. Dai, miralo. Non lo mira. Cioè, oddio, oddio. Lo mira, però... Non lo so. Però almeno con quello lì. Vediamo un attimo. Perché se riuscissi... Aspetta, è qua. Ok. Se riuscissi... Ad aprirlo, sto benedetto rampino. Appiglio. Ecco. E poi usare il rampino. Aspetta, che... Questo qua è il punto più... Cruciale. Ok. Ecco, appunto. Ok. Allora. Da qua. Qua non me lo mira. Sono... Di maledetto. Qua potrei mirarlo, volendo. Perché sono a portata. Ma non me lo fa mirare. E infatti... Devo andare avanti. Ma cavolo, no. No, niente. Qua, qua, senti. Cioè, qua sto morendo malissimo per... Sta cagata. Senti un po'. Non ne vale la pena, va. Mai. Eh, va, va tutto. Andiamo avanti. Speriamo di trovare della vita. Ok. Mi sono stufato. Ok. Ok, boh. C'era un albero delle sfere. Vabbè. Poi la gemma gialla. Ma intanto ne abbiamo talmente tante. Di gemme gialle. Praticamente. Possiamo fare anche a meno. Adesso solo che qua... Potremmo essere un po'. Ahia, in difficoltà. Aspetta. Questo che non ho più vita. Eh, mi dimentico sempre che questo... Ah, porca vacca. Vai. Basta. Vabbè. Usiamone una, Massi. Tanto. Fatto stupido io. Ne abbiamo 15, ho voglia. Certo. Eh. Pazienza. È stata così. Ah, ci ha ricaricato. È vero che ci ricaricava tutti i Devil Breaker. Oh. Oh. Facciamo così. Ecco. Questo salta in aria, mo'. Questo ci mette a saltare in aria. Speriamo di recuperare un po' con lo stile. La valutazione del livello, anche se non frega un po' Popo, ma fa niente. Oh, benissimo. Ok. Oh. Eh, vabbè. Allora. Non c'è nient'altro? No. Ok. Uh, ah. Ah, ma è stato della divinità così, ma... Cioè. Poco fa c'è stato il furgone di Nico. Non mi serve. Forse per i Devil Breaker, no? Ma va bene così. Aspetta, bisogna andare giù. Sì, prendiamolo. Questo. Qua c'è... Ok. Una strada e qua ce n'è un'altra. Forse è questo qua, il bivio, non so. Devi vedere. Io prendo gli alberelli qui. E ammazzo voi. E ole. E ole. E ole. Non male la fusta, devo dire. Ah, ma quello è? Sei rimasto introgionato là? Aspetta. Aspetta, qui. Ah no, forse è una zona proprio extra, diciamo. Sì. Niente altro. Qua. Ah no, 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 qua si va avanti, eh. Aspetta. Oh, per me. Potete vedere un attimo. Cos'è? Ah, non ha luce. Ok. Ok, qua. Invece si va giù. Ci sono i cavaliere, c'è il cavaliere là in fondo. Beh. No, qua non si va. Eh, boh. Non so. Non saprei cosa scegliere. Ma sì, ammazziamo anche lui, va. Così. Ok. Qua c'è un health shaker. E vedi. Aspetta. No, beccatevi questo. Aspetta, ne abbiamo un altro qui. Di rawhide. E mi prendo il frivellone. Ecco. Un po' strettino, eh. E dai, te lo sfondo con lo scuro. Vai, ecco. No, l'ha rotto. Andato? Sì. Due e due. Qua si va da un'altra parte. Ma sì, io sto qua, sto, boom. Non già qui. Cos'è? Un animale questo qua si spacca. Megabust. Esatto. Megabust. Prendiamolo. Sì. Questi, ragazzi, facevano l'agguato. Forse. Aspetta. No, è vero che... No, perché se lo miro lo prendo. Invece... Ecco. Ok. Oh. Sfondiamo tutto. Megabuster. Oh, c'è un altro. Due volte l'ho preso. Ah, scema. Ma questi si nascondono. Cioè, voglio dire. Vai che spazi stretti. Ma puoi? Cioè. Scusi, venga più avanti. Grazie. Ah, l'altro però sta fermo. Ok. Mi piace guardare. Ok, vieni anche tu adesso. Vieni. Niente, non si smuove. Allora, non si smuovo io. Ehi. Pensi di fregarmi. Oh. Basta, dicevamo. Di qua, dove? Torniamo indietro, forse. Sì, forse è la strada principale. Ah, vieni. Non si può più tornare indietro. Ok. Abbiamo una volta scelto. Va bene, va bene. Tanto vai, proseguito da qui. Tanto. Ok. Tutto. Cos'è, c'è un... Una vena, forse. Cioè, non è rossa. Sono cyber arteria, però... Ah, c'è quello più grosso. Eh, vabbè. Aspetta, eh. No. Non si vede niente. Olè. Olè. Madonna. Ho spaccato tutto questo. Ciao, usiamo massi. Boh, boom. Ecco. Ricambiamo un po'. Siete brutti. Cioè, no, i cavallieri sono... Però... Ok. Dato. Mini... No. C'è lo scudo. No. Si può fuori attivo, eh. Ok. Andato. Qua c'è niente. No, sembrava uno di quei condotti, questo. Un po' diverso. Invece fa solo luce. Ok. Allora, qua. Un'altra statua. Un'altra statua. Ma quanta generosa. Infatti. Stavo giusto dicendo che rispetto ai vecchi... Eh... Questo dei miei... Che comunque è piuttosto generoso, eh. Vediamo. 41.000... No, ma stiamo così. Stiamo così, va bene. Così. Finché non abbiamo un telefono, non entro. Oh, il tomboy? Questo non è male, eh. Vediamolo. Infatti costicchia. Eh, però... Si, non è male, ma... Forse è quello che si rompe più facilmente. Adesso vediamo. Non vedo niente. Fini qua. Ok. Vediamolo. Ok. Madonna. Eh, brava, che roba che facciamo? Un po' l'ho. Ok. Rallentiamo, eh. Un po' il numero... Dei colpi. Però... Mizzega. Devastazione. Ok. C'è devastazione, davvero? Che roba. Aspetta. Là c'è. Un percorso. Vabbè. Ah, ecco, vedi? Ah, ecco, vedi? Avevo visto che c'era qualcosa. Tomboy, un altro. Beh, non possiamo prenderlo. Oh. Madonna. Eh, questo bisogna passare, diciamo, dalla modalità potenziata, no. Ma non, praticamente. Madonna. Cadi. Ok, una è caduta. Madonna. Ho già usarlo. Tomboy. Qua. Ok. Questo poi scoppia. Esatto, via. Che non vorrei che mi facesse male. Ok. Qua si va da qualche parte. era un sentiero un po' nascosto. Però, boh. Cioè, non lo so. Beh. Si aveva questa... Ah, sì, 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 sì. Qua ci si può buttare. Aspetta. Ma questa me la prendo. Ok. Sì, come forse avevo già detto, ma io l'ho disattivato la funzione online. Tanto non è un gioco che richiede la connessione. Qua torniamo dove era prima. Sì. Sì. Ah, c'è anche Dante. Aspetta, eh. L'ho presi. Ok. Qua è un'arena, infatti. Si vedeva. Allora. Ah, è un po' che non ti vedo a te, eh. Non mi ricordo come ti chiami, però. Aia. Aia. Ma guarda, questo qua. E' devastato. Ok, ma che roba. E dai. E' andato. E va bene. Speriamo di non venire colpiti, perché altrimenti mi si rom... Ecco. Bastardo. No, con le diolo ovviamente non si può menare. Non vedo niente. Aiuto. Ottimo. Manca sto esserino. Ok. E manca quello lì. Che è un mini-boss alla fine. Aia. Ma non mi... Aspetta. Aspetta. Siccome non me la ricordo. Aspetta un attimo. Carico. Siamo maledetto. Devo caricare la super mossa. Adesso è quasi morto, eh. Mette via un attimo. Grazie. Vai, l'ha preso. Oh, è andato. Eh, non... Sa che è proprio programmato così. Allora, anche tu. Non ti riesco a bloccare come fesco con Dante, eh. E' andato, ok. No, con nero non riesco a bloccargli. Ma qualche... Ogni tanto mi era venuto forse... Forse, eh. Non ricordo male. Con Dante invece è già più semplice. Forse perché Dante è più veloce. Quella più veloce di nero quando usa la spada. Qua non pensavo c'era qualcosa. Qua c'è un'arteria. Altra statua. Eh, non ce ne sono di statua in sto livello, eh. Inizialmente abbiamo 6 su 7 David Breaker. Ma io starei così. Sicuro di sé è nero. Sì, è quella là... Eh sì, è quella con... Che è sopra il... Che è sopra il pollo. Sopra un pollo. Sopra un pollo. Ha ragione. Allora. Ah, scusate. Sistete trasporto... Cioè, usa i portali... Per trasportare la testa. Cioè, trasportare i dimensionali... Oh, vite. Tenevo da parte... Dove è da lanciato che non lo vedo? No. Dov'è che non lo vedo? Eh, non lo so. Puzzi da far schifo. Dai, lo voglio. Voglio provare. Eccolo. Sì, però, certo qui. Ok. Ah, ma è il ragtime. Pensavo fosse uno nuovo. Aspetta. Ecco. Guarda che stile trasporta. No. No. Non ha effetto, sembra, eh. Rimuove l'uccellino. No. Fa una roba strana, ma... Non mi sembra avere effetto. Oddio. Madonna. Quanto mi ha tolto. Aspetta, va. Facciamo. Ecco. C'è rotto. Mamma mia. È indemoniato. Fide. Vieni qua. Guarda come si... Le trasporta. Ok, l'ho respinto. Mamma mia. Porca vacca. Oh, alleluia. Colpisco te. Andiamo, scarico, carico. Ok. Carico, carico. No. Oh, c'ho... Eh, vabbè. Fa niente, dai. No, gemma dorata. Eh. Vai. Ok. Peccato. Vabbè, ne usate due. Pazienza. Una stupidamente. Eh, basta. Aiuto. Aiuto, non vedo niente. Madonna. Inzega. Ma sei indemoniato parecchio. Oh. Aspetta. Ma io voglio usare la mossa. Non riesco mai. Quella finale. Vieni qua. Risorgi. Chi è? Chi è che risorge? Vuoi chiamare il tacchino? Ah, ci sta ricaricando la vita. Mamma mia. Vado... Eh, stavo cercando di contrastarla, ma... No, un'altra sfera. Un'altra gemma non... Non la voglio usare. Vieni qua. Tacchino maledetto. Ah, madonna. Niente, un'altra. Vabbè. Olè. Prima volta, porca vacca. Vai, usiamo gemma dorata. Eh, mentre... Sì, ma è round two, effettivamente. Mamma mia. Dai, che ti manca poca vita, maledetto. Dai. Madonna. Se non riesco a prenderlo... Non ce l'ha la vita, praticamente. No. Oh, preso. Mamma mia. Tchè. You can come out now. I guess I owe you one. Yeah. tu devi andare a riuscire il tuo corpo non va a durare più tardi questo non posso fare devo andare dammit B non puoi te prendere devi restare devo andare dove tu è perché perché? io ti prego questa è la mia ultima domanda bene Dante va sicuramente perciò secondo me si vuole riunire a Ulyse non lo vuole sconfiggere eh ma che faccio vabbè di era normale ovviamente abbiamo usato ben tre sfere gialle vabbè pazienza andiamo avanti tommi chiamo perciò 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 la